Confesso subito che sono di parte perché il mio consiglio di lettura è Luis Sepulveda, che è un autore di cui ho tradotto i libri italiani. Consiglio di leggere tutti i racconti perché è un maestro nell'arte di scrivere racconti e perché mi piacciono i libri che si confrontano con la letteratura, con la stessa forza etica con cui si affronta la vita. Ile Carmignani per Club Dante.